Salvare la Salernitana chiudendo il mercato di gennaio inattivo. Danilo Iervolino si è lanciato in questa nuova ed ardimentosa impresa ancorando i calciatori alle proprie responsabilità e chiudendo nettamente la porta ai tifosi. Il presidente della Salernitana sa che la missione salvezza è molto difficile anche perché la squadra è molle, flaccida come osservato e certo non avrà il morale a mille dopo le parole ascoltate ieri. Del resto se il presidente ha deciso di affondare in maniera così netta anche nei confronti del gruppo è evidente che fosse sua intenzione rendere di pubblico dominio una situazione che cova da tempo all'interno e che è più attenti non era affatto sfuggita. Dopo aver incontrato Inzaghi il presidente ha probabilmente avuto un ulteriore conferma della gravità della situazione ed ha provato a giocarsi la carta del messaggio mediatico dopo le parole pronunciate in privato al Meri Rosi. Proprio le accelerazioni interne denunciate da Irvolino hanno in noto il presidente a valutare l'opportunità di inserire un'altra figura all'interno del club. Il tanto invocato dalla piazza direttore generale potrebbe essere il primo acquisto invernale della Salernitana. Se ci sarà e chiunque sarà chiamato la condizione imprescindibile perché possa incidere a fondo è sempre la stessa. Dovrà ricevere una piena e convinta investitura da parte della proprietà, una sorta di carta bianca che non è stata concessa a chi opera già a Salerno. Quali figure potrebbero fare al caso della serenità del presidente Irvolino? Tanti nomi, tante autocandidature, qualche suggestione. L'importante è che il patron sarà sicuro e convinto della sua scelta. In un parallelo c'è il discorso del campo. Inzaghi sta dando tutto se stesso per riuscire ad invertire la rotta ma tenere la barra dritta in questa situazione è molto difficile. Dai cambi di modulo, dalla rotazione dei singoli, il tecnico sta provando un po' di tutto. Il presidente gli ha dato forza ma in quanto alla fiducia vera e propria la sensazione che sia sempre precaria e legata a prestazioni e risultati. Da questi ultimi dipende la classifica e da questa le mosse di mercato. Irvolino sembra essere animato da una certa impazienza nel voler recuperare quanto investito, ma il calcio è azienda tipica proprio sotto questo aspetto. Bisogna aumentare gli investimenti e ridurre i costi, saper fare un netto distingo fra le due cose alla base del successo di un club. E poi non ultima c'è la questione ambientale. Il rapporto con la tifoseria è ai minimi termini. La chiusura netta espressa ieri dal presidente Irvolino è frutto anche della emotività del momento. Ora però ci sarebbe bisogno di passi decisi, magari tutti nella stessa direzione, per cercare di dare un senso ad una stagione che è ancora lunga e che, sebbene la classifica non sorrida, non può essere già archiviata con rassenizione tramite polemiche. Errori evidenti sono stati commessi, ma prenderne coscienza e volervi porre rimedio è ciò che fa la differenza tra chi ha una mentalità vincente e chi non sa vedere oltre il buio del momento. Il campionato è ancora lungo e non ne è ancora arrivato al giro di boa. Il tempo per recuperare c'è.